Io vedo questa terra, la mia terra, come paralizzata, incapace di muoversi, di reagire. Sapete qual è il mio programma? Io le voglio parlare. Le voglio dire muoviti, cammina, ce la puoi fare. Non serve un bilancio, insieme ce la possiamo fare. Penultimo appuntamento con la rassegna culturale Castellabate e il luogo dell'incanto, evento ideato e sostenuto dall'assessorato al turismo e alla cultura di Castellabate, Luisa Maiuri. Una storia vera tratta dall'omonimo libro di Dario Vassallo, con i testi di Edoardo Erba, e la regia di Enrico Maria Lamanna, quella andata in scena lo scorso 19 maggio all'interno della Basilica Pontificia nel centro storico del comune di Castellabate. Interprete d'eccellenza è il noto attore Ettore Bassi, che ha vestito i panni di Angelo Vassallo, accompagnato in scena dai bambini di Castellabate, selezionati per l'occasione. Il comune di Castellabate stasera renderà omaggio ad un amministratore, a quello che è stato definito un eroe quotidiano, un paladino del rispetto dell'ambiente, un paladino della legalità, che purtroppo, lo sappiamo tutti, è stato barbaramente ucciso nove anni fa. Quindi questa è una serata importante, perché è una serata che io particolarmente ho voluto, perché tante parole sono state spese in onore di Angelo Vassallo, ma io credo che proprio attraverso questo pezzo teatrale, scritto appunto dal fratello di Angelo Vassallo, Dario Vassallo, possa dare il giusto riconoscimento ad un uomo. E noi ci auguriamo semplicemente una cosa, e credo tutti quanti aspichiamo che al più presto effettivamente possono essere consegnate alla giustizia coloro che si sono macchiati di questo terribile delitto. Perché quando si uccide un uomo dello Stato, un uomo delle istituzioni, è un colpo al nostro Stato, alla nostra Repubblica. Ettore Bassi a Castellabate per interpretare una persona importante per il Cilento in uno spettacolo speciale, il Sindaco Pescatore. Portare il Sindaco Pescatore in Cilento è per me sempre un motivo di grande orgoglio, ma anche di grande responsabilità ed emozione. E quindi raccontarla questa storia, farla conoscere meglio, nei suoi aspetti anche più emozionanti al pubblico di questa terra, per me è una gran bella occasione. È bello vedere anche nel tuo spettacolo, questa sera, la presenza di tanti bambini, soprattutto del posto. Sì, questa è un'idea che noi abbiamo avuto in fase di preparazione e di allestimento dello spettacolo. Abbiamo pensato che questa era una storia che andava raccontata anche ai ragazzi, ma abbiamo voluto fare un passaggio in più, cioè dire non solo la raccontiamo ai ragazzi, ma la facciamo raccontare dai ragazzi. E quindi questo rende non solo la storia molto più potente, e lo vedrete, ma rende anche la loro esperienza su questa storia un'esperienza indimenticabile. Facciamo soltanto un passo indietro da prestigiatore ad attore, conduttore televisivo e direi anche ballerino. Quindi la magia è riuscita. L'inganno è riuscito, il trucco è riuscito. Ma diciamo che mi sono, come dire, divertito anche negli anni a sperimentarmi in diversi ambiti. e quest'ultimo è anche per me sconvolgente, devo dire la verità. Non mi aspettavo di riuscire a trovare un feeling così divertente con il ballo, con la trasmissione, con Millie e con tutto l'ambiente di Ballando con le stelle. Per cui sta andando molto bene, mi diverto e siamo arrivati quasi in fondo e vediamo come va. Un saluto grande, un abbraccio agli amici di Cilento Channel. Insomma, ci rivediamo presto in queste zone perché sono bellissime.